Ho parlato a lungo col pilota austriaco, stringendogli la mano e facendogli coraggio perché era molto avvilito. Veniva dal fronte russo, dove aveva guadagnato la croce di guerra e medaglia al valore che portava sulla sua uniforme azzurra. Non aveva potuto salvarsi dalla mia caccia e mi esprimeva la sua ammirazione con le poche parole d'italiano che sapeva. Una folla di soldati ed ufficiali era a corsa da ogni parte, tanto che hanno dovuto far sgombrare con la cavalleria e sparando fucilate in aria. Molti generali e colonnelli sono venuti a congratularsi con me e a vedere l'apparecchio. La squadrilla oggi è raggiante, nessun austriaco è più comparso nel cielo. Sono parole di Francesco Baracca, le scrisse a rientro dal suo primo duello vittorioso, la prima battaglia aerea mai combattuta dall'Italia. Era oggi, più di un secolo fa. Era così emozionato il giovane Baracca che appena rientrato prese carta e penna e scrisse la mamma. Le raccontò tutto, tutto il duello, le raccontò anche di come aveva stretto la mano al pilota nemico abbattuto al quale aveva detto anche parole di conforto. Le guerre erano sempre guerre, gli uomini che le combattevano un po' diversi.